Noi non ci siamo mai sognati in tanti anni di proporci con un prezzo civetta o con un asterisco che rimanda tutto a zero. Noi siamo un po' diversi. Noi non saremmo mai arrivati dove siamo se i nostri clienti non ci avessero dato una mano, perché si sono fidati e noi siamo stati premiati e sono stati premiati anche loro con un prodotto veramente buono e con un servizio ottimo. Da qualche anno stiamo proponendo Tecnovera, la bascolante leggera. È una porta che si alza e si abbassa con un dito, ormai l'avete vista tutti, con la porta pedonale con i catenacci o la serratura triplice. Nella parte alta una bellissima finestratura che vi dà la possibilità di fare i vostri mestieri di tutti i giorni, quello che era prima il garage, ed è sempre riutilizzabile per fare entrare un'auto. Può essere manuale, motorizzata, comunque sempre straordinaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.